Oggi abbiamo un'anteprima spaventosa! Cultistorm è il nuovo gioco ispirato all'universo di Lovecraft in arrivo su Kickstarter. Seguite questo video fino alla fine per scoprire tutti i segreti nascosti in questa scatola. Ciao ragazzi, io sono Miss Meeple e sul mio canale troverete consigli e tutorial sul mondo dei giochi da tavolo. Il video di oggi sarà molto particolare, è la prima volta che mi capita di parlarvi di un'anteprima Kickstarter, ma Cultistorm è un progetto creato con cura e passione che ha attirato la mia attenzione. Sarà realizzato dalla Purple Meeple Games e la campagna Kickstarter inizierà il 4 dicembre, trovate tutti i link nella descrizione. Vediamo brevemente come si gioca a Cultistorm, poi vi svelerò tutti i segreti della campagna Kickstarter. Quello che vedrete nel video è solo un prototipo, quindi i materiali sono semidefinitivi. In particolare, non fate caso ai meeple di legno che saranno sostituiti da bellissime miniature. Il gioco è ambientato nel nord degli Stati Uniti nel primo novecento. Nelle cinque località scelte casualmente a inizio partita succede qualcosa di strano. Continuano a manifestarsi numerosi cultisti, appartenenti a diverse sette, che cercano di preparare il terreno per l'apparizione dei grandi antichi. I giocatori sono investigatori e dovranno combattere e respingere queste forze dell'occulto, sigillare le cinque località e bloccare così l'arrivo di nuovi cultisti. Ogni giocatore ha una plancia personaggio, con delle abilità speciali che potrà sviluppare nel corso della partita. E un mazzo di carte, tutte con la stessa struttura e che si possono usare in due modi. Si può usare l'amuleto in alto, con il cui simbolo combattere le forze del male. Oppure si può usare l'azione di supporto in basso, con cui aiutare i propri compagni. Cultistorm è un gioco cooperativo da due a cinque giocatori, in cui la meccanica del supporto è fondamentale per il successo. Non esiste un giocatore alfa, tutti devono essere pronti a sacrificarsi per il gruppo e capire quali carte tenere per sé e quali cedere ai compagni. Il tabellone è circondato dal ciclo del terrore. Il segnalino funge da clessidra per la partita e semina segnalini terrore, che scateneranno eventi spaventosi per i giocatori. Il round di gioco prevede le seguenti fasi. Nuovi cultisti appaiono in vari luoghi. Guardatevi sempre attorno, perché se in un luogo ci sono già tre cultisti, il prossimo ad apparire sarà un grande antico, difficilissimo da sconfiggere. Si lanciano i dadi relativi ai luoghi, che si aggiungeranno alla forza dei cultisti. Il segnalino terrore avanza. I giocatori pescano fino a quattro carte dal proprio deck e tirano i loro dadi di supporto. Poi, nella fase di pianificazione, possono liberamente discutere sul da farsi, possono cercare nuovi oggetti, scambiarli con i compagni, spostarsi tra i luoghi, scegliere il target del loro attacco, scegliere un dado per il combattimento, sviluppare una propria abilità, cedere carte ai compagni perché utilizzino l'azione di supporto. Attenzione perché dare supporto spesso farà aumentare la vostra insanità, ma di contro potrete pescare nuove carte per creare nuove combinazioni. Quando sono tutti pronti si può dare inizio al combattimento. Ogni giocatore deve combattere almeno un cultista e se vuole ne può combattere poi un secondo. Per uccidere un cultista deve giocare amuleti che corrispondano a tutti i simboli presenti sulla carta cultista, più il simbolo sul dado luogo, più il simbolo casta solo se corrisponde a quello del luogo in cui il cultista si trova. Gli amuleti da usare si possono trovare sulle proprie carte, sul dado, sulle carte oggetto, sulle carte supporto ricevute. I grandi antichi si sconfiggono esattamente come i cultisti, ma si possono attaccare solo quando si trovano alle porte di un luogo. Ad ogni round il grande antico si avvicina alla carta luogo, divorando i cultisti che trova sulla sua strada e guadagnando un nuovo simbolo da combattere. Se non lo si sconfigge quando si trova in questa posizione, al round successivo entrerà nel nostro mondo e la partita sarà persa. Per ogni cultista ucciso si ottiene un trofeo. I trofei si possono spendere per attivare nuove abilità dei personaggi, che in questo modo ottengono esperienza e anche le fondamentali carte per sigillare i luoghi. Gli stessi trofei serviranno in seguito anche per sigillare i luoghi. Vediamo come. Sul luogo devono essere stati posizionati tanti trofei pari al numero di giocatori. Poi, l'investigatore in possesso della carta sigillo corretta può chiudere definitivamente il luogo. Sigillare i cinque luoghi e bloccare l'arrivo di nuovi cultisti è lo scopo del gioco e determina la vittoria degli investigatori. A questo punto è bene notare che se questa è l'unica condizione di vittoria, le condizioni di sconfitta sono ahimè numerose. I giocatori perdono se anche uno solo di loro impazzisce, ovvero ottiene il suo quinto segnalino in sanità, se si supera il numero massimo di cultisti concessi sul tabellone, determinato in base al numero di giocatori, se un grande antico riesce ad entrare in una delle cinque location, oppure se non si riescono a sigillare tutti e cinque i luoghi prima dell'esecuzione delle carte fine partita, che si trovano nel ciclo del terrore e in fondo al mazzo cultisti. Abbiamo visto solo una breve panoramica delle regole principali, ma il regolamento completo non è molto più complesso di così, è abbastanza semplice da seguire. L'utilizzo dei dadi, come avrete visto, è molto controllabile, l'alea è ridotta al minimo e la si può combattere con una saggia gestione della mano di carte. Ma quindi cos'ha questo cultistorm di diverso dalla miriade di giochi lovecraftiani sul mercato? Cultistorm promette un'esperienza immersiva e appassionante. È infatti possibile giocarlo in modalità narrativa, in cui ad ogni evento e incontro si potranno leggere delle storie che ci permetteranno di seguire la vicenda mentre la viviamo. Si tratta di ben 400 storie brevi. Inoltre, 15 storie lunghe sono state scritte da 15 scrittori appositamente per cultistorm, omaggiando l'eredità letteraria di Lovecraft e narrandoci il background di alcuni elementi che ritroveremo nel gioco. Ma non è tutto, la Purple Meeple Games ha coinvolto anche un compositore, Graham Plowman, per comporre la colonna sonora perfetta per questo gioco. La rigiocabilità sembra notevole ed è incrementata dalla presenza di due grandi espansioni e nove mini espansioni. Le due espansioni grandi sono delle esclusive per il Kickstarter. Una aggiunge la modalità campagna e l'altra aggiunge il personaggio di Lovecraft in persona da sconfiggere insieme. Le nove mini espansioni invece aggiungono nuovi luoghi, nuovi oggetti, nuove sette di cultisti e nuovi antichi. Alcuni moduli rendono il gioco più semplice, altri lo rendono più complesso e alcune espansioni permettono di giocarlo anche in uno o due giocatori. I produttori propongono un unico tipo di pledge all-in, quindi tutto quello che vi ho elencato non saranno degli add-on da comprare a parte, ma semplicemente degli stretch goal che si sbloccheranno per tutti al raggiungimento di un certo numero di sostenitori. Il prezzo del Kickstarter sarà quindi unico e sarà di circa 140 dollari. Il gioco è fortemente dipendente dalla lingua, soprattutto nella sua variante narrativa, ma non disperate, al raggiungimento dei 500 backers italiani sarà garantita la localizzazione nella nostra lingua. Potete partire con il passaparola. Se il progetto vi interessa trovate tutti i link utili nella descrizione. La campagna Kickstarter parte il 4 dicembre. Non mi resta che dirvi alla prossima e buon pledge!